ecco sta per fischiare siamo alla fine calma ragazzi freddezza freddezza attenzione spazza via ma gli spazza mai sotto ma gli porti con l'appresso so vai vai piano piano bello attenzione tenete la palla all'olandese via la melina andiamo ecco la terza rete la terza rete la terza rete che la fa sempre michela tripletta della nostra michela di cognome come fa a di tullio tripletta abbiamo abbiamo sbancato il comunale di tollo ecco vediamo manca solo ecco il nostro mister sanguigno come un rosso montepulciano ce l'andiamo a fare ecco la nostra panchina alla quale dei titolari le nostre led di giallorosse ecco vediamo manca solo il fisco finale mister anna mister gabriere o l'ora da al pubblico l'hanno fatto domenica scorsa l'ora ancora ancora aspettiamo sti quando mangiate se si concentrati proteggi la palla attenzione occhio occhio ok lascia calma calma vai calma dai calma calma si attende solo il fischio ecco il fisco finale in finale la virtus castelfrentano in finale contro l'aquila vittoria meritata qua al comunale di tollo bravi 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 a tutti alle nostre ragazze le nostre led di giallorosse grazie ragazzi eh preparatevi grazie ragazzi complimenti eh fate un po' di festa dopo l'ora mister gabriele dopo organizza l'ora vittoria meritata sul comunale di tollo della virtus castelfrentano squadra femminile a 11 che va a centrocampo che va a centrocampo piano è andata al pubblico ecco vanno a salutare il pubblico e ricevere i giusti applausi grazie la virtus castelfrentano in finale che sarà disputata domenica prossima che è successo? che è successo? che è successo? la zia che ha fatto? bravi bravi vittoria meritata ci siamo ripresi quelli che ci hanno scippato domenica scorsa eh con la maglia ok ecco ecco anche le ragazze della collese calcio riceve gli applausi dal proprio pubblico 3 a 0 tripletta di Michela Di Tullio grazie 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 ragazzi le operazioni sono cuffie